Musica Eccoci con Maurizio Lorei, nuovo presidente di Angaisa, adesso ti devo chiamare presidente anche se tu sei un volto già noto per il mercato totale, complimenti intanto. Grazie, grazie, sì, un ruolo che sicuramente mi inorgonnisce, abbiamo tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare. Senti, ma come ti è venuta l'idea di prenderti questa grana, tra virgolette? Ma guarda, la vita ci vuole il giusto pizzico di adrenalina, io ne ho da spendere, il presidente Celin probabilmente in questo momento è attento anche a curare giustamente gli interessi della sua nuova azienda e allora io da vicepresidente cerco di portare avanti le mie idee ma anche parte delle sue idee che sono quelle che lui non è riuscito a terminare nel mandato precedente. Senti, tu sei messinese, quindi siciliano, ecco, com'è il mondo ITS italiano visto da sud? Guarda, l'Italia va a più velocità chiaramente, il nord e il centro hanno una tipologia di presentazione sul mercato, noi del sud ne abbiamo probabilmente un'altra. Da noi valgono molto i valori umani, gli affetti, la fidelizzazione del cliente, la battaglia si vince proprio sul campo da noi perché i clienti che entrano in azienda, il cliente viene a visitare o la sala mostra o il banco e là si deve innamorare degli addetti ai lavori e questo è il valore aggiunto che noi meridionali riusciamo a dare, probabilmente rispetto a magari agli imprenditori, ai colleghi del nord che hanno ruoli un po' più manageriali, noi siamo un po' più operativi. Il 28 gennaio, già diamo una notizia, ci sarà il vostro convegno, l'abituale convegno nazionale dove chiamate a raccolta gli stati generali del mondo idrotermosanitario. Però io ti chiedo, visto che siamo amici, di darmi qualche anticipazione su quello che annuncerete quel giorno. Sì, intanto il 28 gennaio venerdì al Mico ci darà la nostra convention che quest'anno è stata rimandata di due mesi a causa della pandemia che stiamo vivendo. Un'anticipazione, sicuramente la nuova governance vuole mettere le cose in chiaro perché Angaisa rappresenta il mondo idrotermosanitario, un mondo idrotermosanitario che in questo momento porta numeri importanti di crescita, nel 2021 avremo dei risultati incredibili, quindi probabilmente il lavoro fatto da Angaisa e da tutti noi distributori nel periodo di pandemia oggi ci sta premiando. Cosa porteremo avanti? Oltre che continuare ciò che non è stato fatto col precedente mandato, noi dovremmo lavorare per competenze affinché gli installatori, l'udente finale, possa riconoscere il brand Angaisa come un brand importante, diventare un loro punto di riferimento. Maurizio, senti, gira voce che Confindustria abbia intenzione di accorpare Anima e Anie, cioè le due Confindustria del settore idrotermosanitario e del settore elettrico. Qual è il tuo pensiero in proposito? Io credo che, ed è messo come punto di programma, che noi dovremmo andare a stringere sinergia anche con Angaisa, con Confindustria. Fino adesso ci abbiamo parlato poco e sicuramente dovremo intrecciare una partnership, perché anche nei punti di programma ci sono nuove partnership, e quindi una di queste è Confindustria, che spero di poter incontrare prima possibile i loro responsabili. E invece con la FME, cioè il vostro quasi corrispettivo nel mondo elettrico, che rapporti vorrai avere, quali pensi di poter avere? Massimo rispetto e condivisione. Chiaramente loro rappresentano il mondo elettrico, noi di Angaisa rappresentiamo il mondo idrotermosanitario. Sono due settori che oggi si intrecciano, possono andare a braccetto, ma ognuno probabilmente dovrà fare la sua strada. Senti, domanda cattiva, ma non te la puoi evitare, almeno una. Ci sono molti distributori del settore elettrico che stanno allungando le loro brame sul settore idrotermosanitario, alcuni addirittura stanno già prendendo magazzini ibridi, elettrico e ITS, e qualcuno guarda anche con piacere verso Angaisa, però da parte dei distributori ITS c'è un po' di razzismo, tra virgolette in senso buono, nei confronti di questi nuovi competitors. Qual è il tuo pensiero? No, no, diciamo che si è parlato nelle riunioni di esecutivo Angaisa di questo avvicinamento del mondo elettrico. Noi abbiamo massimo rispetto dei nostri colleghi elettrici, ma ripeto, noi ribadiamo le nostre competenze nel mondo idrotermosanitario, nel nuovo mondo della tecnologia, dell'efficienza energetica, e la battaglia si gioca là. Sarà una battaglia di competenze. E' chiaro che noi andremo a difendere sempre i nostri margini e i nostri ricarichi, perché è chiaro che le competenze, la qualità, la formazione e la cultura devono avere un loro riscontro. Ultima domanda, Maurizio. Angaisa è un'organizzazione storica molto potente, ma rappresenta circa il 50%, adesso cifra più, cifra meno, del mercato idrotermosanitario. Ecco, si può dire che tanto, si può dire che poco, però fare meglio è sempre possibile. Ecco, che cosa ti vuoi impegnare a fare perché questa cifra che io ho detto approssimativa possa crescere? Oggi rappresentiamo circa 250 soci, abbiamo un valore di circa 5 miliardi, credo che se non sono arretrato come dati. E' chiaro, la voglia di crescere c'è, ma quello che noi ci siamo detti anche oggi, e nella prima riunione di esecutivo, è guardare sempre verso l'alto, profilo basso ma sguardo verso l'alto. Non dobbiamo porci limiti, se siamo bravi con il lavoro, col sacrificio, voglio dire poi i risultati arrivano. Quindi in questo momento siamo stati probabilmente il settore insieme all'elettrico meno penalizzato dalla pandemia, perché abbiamo lavorato, abbiamo avuto degli incrementi incredibili, quindi quelli non ci devono porre dei limiti, ma non ci devono eventualmente creare, fare voli pindarici. Dobbiamo essere oculati, attenti e con la voglia di crescere, soprattutto con la voglia di competitività. Scusa, ti rubo ancora una risposta perché mi è venuta in mente nessuna domanda. Le famose 3C, Comini, Clerici, Cambielli, ecco, cercherete di coinvolgerli di più, visto che rappresentano tanta parte di questo mercato? Ma loro sono parte attiva di Angaisa. Già ci sono, sono parte attiva. Probabilmente non vogliono scendere in campo perché curano molto le loro aziende, ma con loro abbiamo sempre collegamenti, ci sentiamo, ci scambiamo idee, opinioni, pensieri, quindi si va in comune accordo. Poi credo che nel nuovo esecutivo, voglio dire, ci sono due componenti delle 3C, perché Corrado Novelli, bene o male, rappresenta anche la Comini e Fiorentini rappresenta Cambielli, quindi guai, anzi, a me avrebbe fatto piacere se ci fosse stato pure un esponente di Clerici. Benissimo, allora lo attendiamo. Grazie Presidente e mi sa che ci vedremo presto. Grazie, grazie a voi e alla prossima. Grazie a tutti.